Presentata la stagione sportiva 24-25 dedicata allo sport sociale da parte della WISP del Comitato di Taranto con un incontro dal titolo Un nuovo inizio, un unico obiettivo, lo sport al servizio della comunità. A moderare l'incontro il giornalista Matteo Schinaia, l'intervento del presidente di WISP Taranto, Luca Augenti. Quest'anno abbiamo al nostro interno un'attività in collaborazione con dieci amministrazioni comunali per la terza età, con la ginnastica per la terza età, abbiamo attività con la disabilità intellettiva relazionale, siamo presenti in cinque comuni della provincia, siamo presenti su Taranto, al Palamazzola, quindi siamo qui per raccontare un attimo le buone pratiche che in questa città ci sono e che vanno raccontate e vanno apprezzate. Lo sport per tutti, con un occhio particolare alle fasce deboli della nostra popolazione, Luca Balasco, referente regionale Scuola di Sport e Salute. La WISP è un ente di produzione sportiva che lavora molto bene sul territorio e che naturalmente Sport e Salute tiene anche in forte considerazione, considerando il fatto che Sport e Salute è la società pubblica che si occupa di corretti stili di vita, sviluppo dello sport in Italia, ma anche e soprattutto di aspetti legati all'inclusione e la WISP è protagonista con tutta una serie di eventi che vanno sempre e comunque in quella direzione. Lo sport che unisce dunque, che mette assieme buone pratiche, stili di vita, ma anche inclusività che significa spesso e volentieri solidarietà effettiva, ancora urgenti. In primis l'inclusione, garantire lo sport per tutti ed a tutti.